Benvenuti a questa seconda parte del corso sulle banche dati, nella quale ci avviciniamo al nostro strumento di lavoro che ci seguirà fedelmente nelle parti successive, ovvero LibreOffice Base. Allora, cominciamo col dire che il modulo Base, ovvero la parte, il componente di LibreOffice Base, della suite LibreOffice, non è in Ubuntu installato per difetto, ovvero quando installate il vostro sistema Ubuntu questo modulo non c'è, non lo trovate, quindi bisogna provvedere ad installarlo per conto nostro. Allora, come si fa? Il modo più semplice è aprire il fedele Ubuntu Software Center, cercare LibreOffice e cercare proprio LibreOffice. Questo è il modulo LibreOffice che è, adesso lo troviamo, eccolo qua, proprio quello che si chiama LibreOffice, quindi non il singolo modulo, per esempio, ecco qua, Database LibreOffice, è proprio il nostro modulo Base. Quindi questo verrà installato di conseguenza al fatto che noi installiamo questo pacchetto. Il pacchetto LibreOffice è, come dire, un metapacchetto cappello di tutti, che ha alle sue dipendenze, tutti i pacchetti di LibreOffice. Quindi, installando questo come cappello, automaticamente viene installato anche Base, che in questo momento non lo avete ancora installato nel vostro sistema, se non vi siete mai occupati, naturalmente, di banche dati con LibreOffice. Ecco che, quindi, il modo più semplice per installare tutto quanto concerne LibreOffice è proprio usare questo pacchetto a livello superiore, pacchetto cappello, chiamiamolo. Quindi cercate LibreOffice, selezionate questo, fate installa e vi installerà tutto quanto vi serve. Ma non è finita qui, poiché LibreOffice Base è, credo, l'unico modulo che compone LibreOffice che si appoggia a Java, al linguaggio Java, per il suo funzionamento, dei moduli Java. Quindi, se nel vostro sistema non avete mai avuto a che fare con Java, non avrete nemmeno Java installato. Quindi bisogna provvedere anche a quello. Come si fa a verificarlo, però? Apriamo LibreOffice, quindi apriamo LibreOffice, eccolo qua. Faccio, nascondo un attimo la scaletta. LibreOffice, questo qui vedete, questa finestra che magari usando LibreOffice non vi siete mai accorti che ci sia, ma è l'interfaccia base di LibreOffice quando non è aperto nessun documento. Quindi immagino che molto, ma molto spesso, quasi sempre, usate LibreOffice per i vostri fogli elettronici, per i vostri documenti di testo, per le presentazioni impress, o perché no, che per i database, eccetera, eccetera, e partite già con un documento aperto. Quindi non vedete mai questa interfaccia di base. Come si fa ad arrivarci? Semplice. Ve lo mostro una volta, così lo vedete. Apriamo un foglio elettronico, per esempio. Ecco, si parte così con l'interfaccia classica di Calc, foglio elettronico, e chiudendo, attenzione, non uscendo da LibreOffice con questa opzione in basso del menu file, quindi non con l'ultima, questo chiude tutto LibreOffice, ma semplicemente chiudendo il foglio Calc che abbiamo appena aperto, chiudendo questo, LibreOffice resta aperto, ma senza nessun documento, e quindi appare questa interfaccia di base. Ecco, che è quella minima. Dunque, dicevo, come facciamo a verificare se nel vostro sistema hai già installato Java, oppure no? Quindi se siete già a posto, quindi se avete già tutto quanto è necessario per usare LibreOffice base, oppure no? Ecco, allora si va nel menu di LibreOffice, strumenti, opzioni, come dico qua, avanzato, la voce avanzato, ecco che l'avevo già aperto prima di iniziare a registrare il video, e quindi ecco qua. Vedete, nel mio caso ovviamente ho già Java installato, si chiama Oracle Corporation il fornitore, perché come sapete da diversi anni ormai Java è stato acquisito, la Sun, quindi la ditta creatrice di Java, è stata assorbita da Oracle, e quindi ora Java è un prodotto Oracle, ecco perché appare Oracle Corporation. Ecco, allora nel mio caso vedete che c'è già installato quanto mi occorre per Java e per poter usare LibreOffice base. Ecco, se qui non appare nulla, dopo qualche istante che avete fatto clic su avanzato, se non appare nulla, vuol dire che non avete un Java installato che serve a LibreOffice base. Quindi si fa nulla, si torna nel software center e si cerca Java. Quindi cerchiamo Java, e nelle prime voci vedete ce ne sono un paio, Java 6, OpenJDK 6 Runtime e 7, ecco. Io direi, come ho scritto qui, ho messo installiamo il 7 perché è la versione più recente di Java, quindi è sempre meglio mettere quella più recente. Ho messo anche fra parentesi stato 2013, perché quando rileggere, se e quando rileggerete queste mie note, queste mie scalette per seguire questo corso, dovete pur sapere che parlo di Java 7 perché siamo a maggio 2013. Ecco, naturalmente Oracle continua l'orare in Java, prima o poi uscirà Java 8, Java 9, eccetera, quindi più passa il tempo, più è probabile che questa versione cambi. Quindi allo stato attuale, sto registrando il video adesso, stiamo parlando della versione più recente che è a livello 7, quindi Java 7. Noi favoriamo la versione più recente perché è sempre la più evoluta e anche la più protetta dai vari bachi che possono capitare nel software, quindi affidiamoci all'ultima. Stesso discorso come per LibreOffice, cerchiamo Java, selezioniamo il pacchetto e si installa OpenJDK, OpenILungoDK, Java 7 Runtime. E' questo qui il pacchetto che ci interessa, col simbolino, con l'icona qui della mascotte di Java. Ecco, installato anche questo, torno un attimo qua, quindi una volta che l'avete installato, se tornate in opzioni avanzato, non vi resterà più vuoto questo elenco, ma vi apparirà la voce di un Java installato nel vostro sistema che LibreOffice ha visto e quindi siete a posto. Avete aggiunto il pallino per attivarlo, siamo a posto. Quindi una volta che la situazione è questa, siamo pronti per usare il nostro modulo LibreOffice Base. Perfetto. Già che ci siamo, visto che sto registrando un video in questo periodo in cui c'è una versione consolidata di LibreOffice, che è la 3.5. qualcosa, che è la versione standard di Ubuntu 12.04, che è quella che sto usando io, quindi voi sapete ormai, immagino che lo saprete se seguite il mio canale, che io uso installare sui miei sistemi, sul mio PC, solamente le versioni a lungo termine di supporto, quindi aspetto sempre due anni per una nuova installazione. Ecco che quindi io sto usando tuttora Ubuntu 12.04, anche se è già uscita la 12.10, la 13.04 di recente. Quindi in Ubuntu 12.04 è per difetto, cioè la versione supportata e ufficiale, è la 3.5 qualcosa di LibreOffice. Però nel frattempo si è consolidato un ramo nuovo di sviluppo, che è la 4.0. qualcosa, e come vedete qui, anche dal banner qua in cima, verde, con la scritta LibreOffice, io sto già usando la versione nuova di LibreOffice, anche se sono in Ubuntu 12.04, vedete 4.0.2.2. Come si fa ad avere questa versione? Ve lo descrivo qua, cioè bisogna aggiungere un repository PPA dedicato proprio al ramo 4.0 qualcosa di LibreOffice. Ecco, il modo più spiccio per installare, credo sia tutto sommato, usare il terminale con un qualche comando in sequenza, e ve li metto qua in fila questi comandi. Quindi a voi basta proprio pedestremente seguire questi comandi, fate un bel copia del primo comando, vi dico anche qui accanto cosa fa quel comando, per ogni comando vi dico in italico cosa fa, quindi voi semplicemente selezionate, fate copia, incollate nel vostro terminale che nel frattempo avete aperto, enter, siccome sono comandi che richiedono diritti di amministratori, almeno il primo comando vi chiederà la vostra password, la inserite, poi seguite i messaggi che escono, quando è finito un comando passate al prossimo, quindi selezionate questo, fate il control C, oppure copia, incolla nel terminale, esegui eccetera eccetera, alla fine l'ultimo comando, vedete install LibreOffice, LibreOffice, quindi il pacchetto di nuovo, sfruttiamo il pacchetto cappello, come ho detto prima, quello che poi a cascata installa tutto quanto LibreOffice. In sostanza quindi questi quattro comandi potete, potrete poi leggervi con tranquillità quando avrete sotto mano questa mia scaletta, se avete già scaricato il modulo, scusate l'archivio compresso con tutto il materiale del corso, avete già a disposizione anche questa scaletta, quindi in sostanza cosa fa il primo comando? Disinstalla l'attuale versione di LibreOffice, ovvero la 3.5 qualcosa, il secondo comando aggiunge il repository PPA con i pacchetti della nuova versione 4.0 eccetera eccetera, il terzo comando aggiorna l'elenco dei programmi nel vostro sistema per far rendere conto al vostro sistema che adesso c'è anche LibreOffice 4 e l'ultimo comando installa appunto LibreOffice 4. Et voilà, ecco questo ve lo dico perché il corso, una volta è stato LibreOffice 4 mi sono accorto che funzionante perfettamente, non dà alcun problema e quindi ho deciso di tenere LibreOffice 4 sul mio sistema Ubuntu 12.04 e quindi anche questo corso sulle banche dati io lo farò usando appunto la mia installazione di LibreOffice 4 e non più la 3.5 quello che è. Quindi il mio consiglio è di allineare anche voi il vostro sistema a questa versione per avere la stessa versione. È anche vero che quello che uso nel corso dovrebbe già essere presente completamente anche nella versione 3.5 o 3.6, cosa è poi l'ultima che c'è in Ubuntu 12.04 ufficialmente. Quindi anche se decidete di stare con la versione vecchia in teoria non dovreste avere nessun problema a seguire ad aprire i file creati con questa versione successiva, però per evitare magari qualsiasi problema di compatibilità che io non conosco, non avendo provato ad aprire con una vecchia versione i miei file, io vi suggerisco di allineare anche voi al nuovo ramo di sviluppo LibreOffice 4 già ora. Quindi se volete seguire questi semplici passi fatelo pure e vi ritrovate come me. Ecco, adesso passiamo quindi una volta preparato diciamo una tantum, fatto il lavoro una tantum per preparare tutto il terreno per poter usare LibreOffice based, quindi installarlo, installare Java, installare l'ultima versione. Possiamo passare a guardare un po' più da vicino LibreOffice based, giusto così a grandi linee come si presenta questo modulo che appunto non essendo installato per difetto probabilmente è anche quello che capita meno sott'occhio alla maggior parte degli utenti, diciamo che ovviamente i più frequenti sono documenti di testo, write, foglio elettronico calc e presentazioni in press che sono i corrispondenti del Word di Office, Excel di Office e PowerPoint di Office. Ecco, il database dovrebbe, o meglio lo strumento più vicino a descrivere LibreOffice based, chiamato qui database, dovrebbe essere Microsoft Access. Non è proprio la stessa cosa, però se devo dire ma cosa corrisponde nel mondo Windows questo modulo, non posso fare a meno di dire ha una corrispondenza più o meno in Microsoft Access. Ecco, quindi se vogliamo posizionarlo fate conto che è simile nelle funzionalità o nelle intenzioni, negli obiettivi a Microsoft Access. Voilà, quindi base, cosa succede quando noi creiamo un nuovo documento base? Quindi una volta installato base sotto file nuovo si aggiunge anche quella voce oltre agli altri, quindi vedete che si presenta testo, documento di testo, foglio elettronico, presentazione, disegno e database, quindi questa è la nuova voce che si aggiunge una volta installato LibreOffice based. Stessa cosa qui nell'interfaccia di base si aggiunge il pulsante database, se si fa clic qui è uguale a fare file nuovo database, si apre una piccola wizard, diciamo una piccola procedura guidata iniziale per creare un nuovo database. Come è strutturata? All'inizio vi chiede seleziona un database, quindi voi cosa potete fare? Creare un nuovo database ovviamente, l'opzione selezionata per difetto è creare un nuovo database, perché vogliamo crearne uno nuovo, oppure aprirne uno esistente, aprirne uno esistente nella vostra cartella per difetto, nella vostra biblioteca di banche dati, oppure ancora collegarvi a un database esistente esterno. Nel primo video di questo corso ho parlato brevemente sul fatto di non complicarci la vita andando ad usare una banca dati esterna LibreOffice, non usando direttamente quella interna integrata in LibreOffice, quindi se noi scegliamo l'opzione crea nuovo database, si crea automaticamente una banca dati con la banca dati integrata in LibreOffice. e invece collega un database esistente, ci permette di usare l'interfaccia grafica di LibreOffice per connetterci a una banca dati esterna che può essere da qualsiasi parte. Qui non stiamo a perdere troppo tempo perché non è l'obiettivo di questo corso, comunque chi già si intende di banca dati di connessioni queste sigle le conosce, JDBC o DBC, MySQL è un tipo di banca dati, si può connettere anche un, tra virgolette, banca dati in formato testo, semplice testo, DBS, il vecchissimo DBS, ad un foglio Calc o Excel, ha una banca dati PostgreSQL, banca dati open source, tra l'altro, molto potente e professionale come MySQL, rubrica indirizzi di Thunderbird, quindi chi ha il client di gestione della posta elettronica, chi usa ancora il programma Thunderbird, quindi installato sul proprio PC e non usa numerose web, interfacce web come Gmail per dire, chi usa ancora un client può andare a connettersi anche alla rubrica degli indirizzi dei propri contatti di Thunderbird, eccetera, eccetera, quindi JDBC o DBC sono dei metodi di connessione generici con i quali, mediante dei driver appositi per singola banca dati, ci si può connettere a virtualmente qualsiasi banca dati esistente al mondo, qualsiasi tipo, basta che abbia un driver compatibile o DBC o JDBC, ecco. Quindi questa opzione qua non la tratteremo noi nel nostro corso perché l'abbiamo già spiegato nel primo video di questo corso, quindi ci concentriamo su crea nuovo database. Ecco, quindi connessione a database esterni possibile, per dovere di cronaca l'ho detto, però non lo trattiamo in modo particolare nel nostro corso. Bisogna anche dire che in un file base si può lavorare con una sola connessione alla volta, cioè non si può una volta creato un database, e qui lo possiamo anche fare, andiamo avanti, schiacciamo avanti, ecco, registra database sì o no? Al momento mettiamo no, perché cos'è questo registra database? Ecco, se si registra database, se mettiamo sì, il database che creiamo viene, come si dice qui, registrato all'interno di tutto LibreOffice, e questo permette di usare questa banca dati anche in altri moduli di LibreOffice. Io faccio qui l'esempio, per esempio, della stampa in serie con Write, che è come la stampa unione in Word, per chi è abituato a usare Microsoft Office. Ecco, la stampa in serie di Write può appoggiarsi a una banca dati base, per esempio, non so, con salvati gli indirizzi, a dei destinatari a cui mandare una lettera, per esempio, da stampare in serie, ecco, noi possiamo gestirci gli indirizzi in una banca dati base, dire sì, registra il database, e automaticamente, una volta che è registrato, se io apro un documento Write, mi ritrovo disponibili come dati questo database, e anche altri che registro. Ecco, diciamo di no perché, in questo caso, non ci serve al momento registrare questo database. Ecco, non è una decisione definitiva a questo punto, cioè, sia che scrivo sì, sia che scrivo no, posso modificarlo successivamente, lo vedremo più in là, più in là nel corso, eh, niente paura, ci torneremo su questo punto per mostrarvi cosa vuol dire registrare o meno un database. Fatto sta che questa qui è una scelta iniziale che può essere modificata successivamente nell'opzione di LibreOffice Base. Quindi, diciamo di no perché non ci serve. Apri il database per la modifica, vuol dire che viene creato questo nuovo file, e poi ci viene presentato pronto per iniziare il nostro lavoro. Quindi facciamo fine, ci dice dove devo salvare questo database, diciamo che io lo salvo sulla scrivania, per il momento non cambio neanche nome, lascio un nuovo database, e faccio salva. Ok. In questo momento sulla scrivania mi ha creato un nuovo file, con questa icona violettina, diciamo rosa-viola, di database, e qui mi apre l'interfaccia di database, del nostro database base. Ups, ho schiacciato qualcosa che non dovevo. Ecco, allora. Dicevo, dunque, registrare un database, il concetto ve l'ho spiegato adesso, ci torneremo più in là, per il momento non ci serve sapere di più, perché stiamo così visualizzando genericamente, per grandi linee, il modulo base. In un file base, dicevo, prima di interrompermi con la parentesi del registrare il database, in un file base si può lavorare con una connessione alla volta. Questo lo dico anche a beneficio di chi è abituato a usare Microsoft Access, nel quale si possono creare dei collegamenti a tabelle esterne di altri database access, o di altre banche dati. Ecco, in LibreOffice, base, per il momento, allo stato attuale, non è possibile, quindi quando si è creato un database, come in questo caso, con la banca dati interna integrata, non possiamo creare dei collegamenti ad altre banche dati nello stesso momento, quindi si lavora sempre su una banca dati alla volta. In questo caso, vedete scritto nella barra di stato, qui in basso, motore di database HSQL, che è la banca dati integrata in LibreOffice, di cui abbiamo parlato nel primo video, nella prima parte di questo corso. Quindi abbiamo creato un nuovo database, si è creato automaticamente una connessione alla banca dati, database incorporato, vedete qui in basso a sinistra, database incorporato, perfetto, siamo pronti per iniziare il nostro lavoro. Ecco, l'organizzazione dell'interfaccia, ancora una volta, ribadisco, che ricorda vagamente gli strumenti sul tipo di Microsoft Access, ovvero è suddiviso in gestione delle tabelle, e se non vi è chiaro il concetto di tabelle, ricerche, formulari, rapporti, non preoccupatevi, siamo solo la seconda parte del corso, nelle prossime, come avrete visto nella scaletta nel primo video, parleremo man mano di tutte queste componenti, quindi chi ha già usato Access più o meno si può ritrovare, tabelle, ricerche, chiamate anche query, vedete che la sezione si chiama ricerche, poi appare il termine query, chi è già abituato a usarle sa cosa siano, i formulari, ovvero le maschere di gestione dati, diciamo l'interfaccia grafica che ci permetterà di gestire i dati, si gestiscono qui, e poi ci sono i rapporti che sono le stampe, in sostanza, i report, le stampe. scusate che suona il telefono, ecco, andiamo avanti, ok, quindi questa in sostanza è l'interfaccia di LibreOffice Base. Una nota importante che è giusto fare a questo momento, quindi non andiamo più in là al momento nella presentazione non troppo in dettaglio di LibreOffice Base, quindi in questo video ci tenevo a dirvi come si arriva ad installarlo e a farlo funzionare e a mostrarvi così appunto per sommi capi LibreOffice Base come è organizzato, quindi vedete qui sulla sinistra le varie sezioni degli oggetti sui quali si può lavorare, oggetti di banca dati, qui nel primo riquadro in alto a sinistra le opzioni per ogni tipo di oggetto che si possono usare per lavorarci su questi oggetti, sul riquadro a destra c'è una descrizione di ogni opzione, quindi io passo semplicemente con il mouse e non sto facendo click, passo con il mouse e vedete che sulla destra appare la descrizione della singola opzione, quindi io posso passarli, potete leggervi tranquillamente il testo sulla destra, in basso quando clicco su una categoria di oggetto a sinistra avete tabelle, appare tabelle come intestazione e qui sotto man mano che le creiamo apparirà l'elenco delle tabelle, ricerche, ricerche, formulari, formulari, rapporti, rapporti, vedete che appaia qui, quindi il contenuto degli oggetti della banca dati appaiono qui nel riquadro in basso a sinistra, l'ultimo riquadro in basso a destra permette volendo di visualizzare una piccola anteprima degli oggetti che appaiono elencati qui sulla sinistra, quindi vedete per difetto c'è nessuno, quindi qui non appare niente, avessi delle tabelle qui farei click su ogni singola tabella qui non succederebbe niente, se invece ho attivo documento facendo click qui sulla sinistra sui vari oggetti per esempio le tabelle qui apparirebbe un'anteprima del contenuto qua in questo riquadro della tabella rispettivamente del risultato di una ricerca della forma grafica del formulare eccetera eccetera diciamo che qui in basso a destra c'è un'anteprima di quanto viene elencato come contenuto della banca dati qui sulla sinistra ecco questo in sostanza è l'area di lavoro e com'è suddivisa l'interfaccia di base poi man mano appunto vedremo i dettagli col passare delle lezioni ecco una nota importante che volevo dirvi subito così la tenete a mente per il futuro e per tutto l'uso di base durante il corso ma anche il vostro futuro uso di base personale ricordate di salvare spesso il lavoro salvare spesso è utile perché se succede qualcosa qualche bacco qualche problema interruzione di base non si sa mai se non avete salvato avete perso tutto quello che avete fatto nel frattempo quindi è meglio salvare spesso ogni modifica importante fate un bel salva qui come vedete il vostro pulsante salvo il classico contro l'S ecco la particolarità ve lo dico non perché già non lo sappiate penso che con qualsiasi programma causate sul computer l'importante è salvare spesso o eventualmente sfruttare i salvataggi automatici se il programma lo prevede come opzione molto importante per non perdere il proprio lavoro questo immagino lo sappiate già ma la caratteristica particolare di base è che non si lavora solo su questa finestra principale questa è la finestra principale di base ma quando io lavoro su altri oggetti tipo un formulario per esempio si apre un'altra finestra ecco adesso senza spiegarvi nulla vi apro una finestra per disegnare un formulario giusto per farvi capire cosa intendo ecco io sto lavorando in un'altra finestra per un formulario che voglio creare in base quindi mi salvo il mio formulario salva vedete che il pulsante di salva della finestra di disegno del formulario è grigio perché il formulario in quanto tale è salvato però vedete che nella finestra principale del database il pulsante non è grigiato quindi non è ancora salvato a livello globale di banca date quindi devo fare un altro salva per confermare questo formulario se non lo faccio questo formulario e succede un problema o chiudo senza salvare questo formulario è perso quindi devo confermare ecco adesso è diventato grigio anche il dischetto qua e devo confermare il salvataggio quindi per quello che ho messo nota importante quindi che non è importante in quanto tale dirvi di salvare spesso perché lo saprete già ma attenzione che se state lavorando su una finestra diversa e diciamo che io riapro il mio formulare ecco su un'altra finestra io modifico qui salvo qui non è sufficiente non è necessario chiudere questa finestra e potete andare qui salvare e andare avanti col vostro lavoro quindi le due finestre non si escludono potete salvare una due volte una due una due in modo che sia garantito che nel vostro file base di LibreOffice sia confermata questa ultima modifica ecco con questo ho concluso questa prima panoramica su LibreOffice base e dalla prossima lezione inizieremo veramente ad utilizzare le varie componenti partendo dalle tabelle della banca dati per arrivare a creare la banca dati e ad utilizzarla popolarla di dati eccetera eccetera quindi vi ringrazio per l'attenzione un saluto e alla prossima ciao ciao ciao